Sì, favele direte, dentri quest'ennestri spazi, chi ha onde furlane ogni dì è Cirin di Metea Dun, insomma, un'eciacarade con l'esperto che è Giorgio Yannis, semioliche, che tra l'altro è anche tesqueles al parte di tutte le sosnovis, anche su internet ci ha tante robe scritte di lui, tra l'altro Giorgio Yannis, io l'ho chattato anche in Tunesqueles, mi visito in Pindaur, in dolacche all'appartato un'eschiria di Giovin, s'entusiasci alla presentazione di onde furlane per vedere parte del favele di media. Prendi tutto, mandi a Giorgio Yannis, ecco, benvenuti dentro quest'ennestri spazi che non lei quotidiana, ma tre volte se alle settimane ci ringna insomma di fare una biele babade con lui. Giorgio, un'e domanda venne spontanee, ecco, Facebook, MySpace, Buzz, 10 milioni di maniere di avere socialità in rete. Ma questo è per da buon che ste socialità, te ci sal cambiate agli ultimi periodi, spazi che anche chi che fin a che ha tredito i disegni, boi, io, internet, boi, fasi me femmine, me figli. Dottore, se a me che vieni a Padgust, il Friuli qualche settimana in Dauro aveva dedicato addirittura un servizio a che che sono gli amors, i quars che nascono in rete, ecco, praticamente non si chiate in puoi di squindon di una banda, ma si chiate in quella rete, alle plen di siores e siorutes e di siorse e siorusse, che ecciano in compagnia. No, intendo un nome in tal senso, insomma, è scletto, ma anche per tabaiare, per chiatarsi, ecco, diciamo che in che senso le socialità ti cambiate tante, ci sta succedendo qual è questa dell'evoluzione, metti in positivo per intanto. Sì, intanto è da dire che la rete è nata per questo, cioè non sono macchine che parlano fra di loro, internet sono persone che parlano fra di loro, internet è un luogo caldo, relazionale, e il suo vantaggio, la sua ragione di essere è proprio questa della rete, cioè permettere il collegamento tra le persone indipendentemente dalla distanza fisica o dal tempo che le separa. Quello che accade, sì, fin dall'inizio, parliamo degli anni 80, la posta elettronica è una cosa degli anni 70, fin dagli anni 80 è possibile creare dei luoghi di socialità digitale, dei luoghi di socialità in rete, in cui le persone affrontano, come è sempre accaduto nella storia dell'umanità, affrontano degli argomenti, delle tematiche di loro interesse. E questo ha reso possibile la rete, cioè il fatto che le persone trovassero degli interlocutori, delle persone con cui parlare, secondo un'organizzazione del discorso basata sull'interesse per una tematica specifica. A me piacciono le torte salate. Tu già ti slinghi, platico di torte scomparre. Apro un blog io in cui si parla di torte salate, arriveranno 100 persone, oppure trovo già in rete, come è facile che sia, dei luoghi di socialità in cui si parla di torte salate o qualunque altro argomento. E qui che sta al fasnasi, i nuovi sformi di socializzazione, dove anche le distanze fisiche non è un problema. Certo. All'inizio era più complicato, c'erano le BBS, cioè delle baccheche che funzionavano. C'erano queste BBS, funzionavano. Erano dei luoghi in cui ci si connetteva, ad esempio attraverso la posta elettronica, attraverso la connessione diretta, si arrivava su delle baccheche elettroniche in cui era possibile già avere l'organizzazione dei contenuti secondo dei fili di discussione, dei thread. E era possibile, ripeto, creare... Tu ti collegavi per telefono, mi viso, tu telefonavi, tu schiariavi sul computer, tu chiatavi, tutto in maniera grezzissima, informazioni... Teniamo presente, siamo prima del web, cioè l'internet esiste dal 70, diciamo così, ma il web come lo conosciamo noi, il www, esiste dal 90, l'invenzione di Berners-Lee al CERN di Ginevra. Quello di prima era un web, un internet, fatta di righe di testo, non era possibile... Grezzissime, sì. Grezzissime, però era già la possibilità di poter parlare con delle persone in Australia, o a New York, oppure anche tra Pagnacco e Faedi, se non è che... Quello che... Sono testim dilatore. Certo, però conoscevo, venivo a sapere, appunto, che a 20 metri da casa mia, e non l'avrei mai pensato, esisteva qualcuno che non conoscevo, che aveva i miei stessi interessi, quindi potevano nascere, una parola chiave, community, delle comunità telematiche in cui affrontare discorsi di un certo tipo. Poi si è... Io mi visi i Miedis, ad esempio, sono stati in Free Prince, scambiassi anche dai parescomossi, scambiassi addirittura Filmas, Referts, Dutterres... La comunità scientifica sicuramente, l'università fin dall'inizio, quella che poi ha fatto nascere il web, come lo conosciamo, le comunità professionali specifiche, quelle dei medici, la telemedicina, tutte quante le varie... Quello che si può vedere, sono delle belle storie da raccontare, è come sono evoluti le progettazioni, le realizzazioni di luoghi in rete, luoghi con la L maiuscola, in cui fosse possibile per le persone incontrarsi. Si passa appunto dalle BBS, si arriva alle community di metà 90, si arriva ai primi blog di fine anni 90, primi del 2000, che sono già degli aggregatori importanti di umanità, perché permettono con il bottone commenti di crearsi una rete di persone. Che prima non si arrivava a fare, ecco. Tecnicamente era più complicato creare questa cosa, sono nate delle piattaforme sul web che rendono facile, senza che sia necessario per ognuno di noi, avere queste sì delle competenze tecniche, cioè l'HTML, le database, linguaggi specifici informatici, poter attivare dei luoghi di conversazione in cui poter affrontare, permettere alla socialità di distendersi, di spiegarsi. Chiaramente il punto di... la fioritura di tutto quanto questo discorso è avvenuta cinque anni fa, non di più, con il diffondersi delle piattaforme di social network, cioè delle piattaforme sociali. Ci sono i social network, abbiamo già tabaiato, anche se instrucmo, ma le ben ripeti ai nostri ascoltadores. Sono piattaforme dei luoghi della rete fatti apposta per, tramite la registrazione del proprio account personale, nome e cognome, o anche se vogliamo... I dati, signori. In alcuni sì, con dei pseudonimi, però ci si crea degli ambienti e poi fondamentalmente ci si crea quella rete sociale, che sono persone che già conosciamo, che magari conosciamo lì, con cui è possibile intraprendere delle discussioni collettive, quindi praticare socialità. Chiaramente Facebook è quello che ha preso il piede. Ecco, che tanti conosci, tra l'altro tal bene o tal male. Ecco, l'atto positivo, lo abbiamo veduto, al dare possibilità di chiatarsi, di discutere di argomenti, anche di risolvere dei problemi a livello scientifico, tecnico e di robe di ogni giorno. L'atto negativo, perché, ecco, internet in generale, social network, YouTube, o pensi anche a quelle, sono là sulle scronache in senso negativo. E questo è un po' pericoloso, perché le rete non vengono spiegate bene alle int. alle int che, ad esempio, non le do, però le do, però è così in maniera un gruppo larghe. Tu ci hai dito in che senso, Giorgio Yannis? Dico, innanzitutto, che su Facebook ci sono 15 milioni di italiani. Questo vuol dire che se voi camminate per strada, quelle che incontrate, quelle tra i... Uole e probabili, ci attesco a chiudono. Ma di più, sto dicendo che tra quelli che incontrate tra i 20 e i 55 anni, uno su due, più di uno su tre sicuramente, sono su Facebook. Quindi non è una questione di poche nicchie, poche persone, una cosa per pochi smanettoni. È proprio un fenomeno sociale, un cambiamento culturale forte che sta avvenendo. Uno, due, quello che dicevi tu, ne parlavamo anche nella puntata sulla scuola. Questa cosa non viene raccontata nelle scuole, si fa alfabetizzazione informatica, ma non si parla di competenze digitali, quindi non si può costruire le basi per una vera cittadinanza digitale, che è quello che noi siamo oggi, cioè cittadini che vivono o traggono informazioni o esprimono se stessi, indifferentemente in luoghi fisici, come questi in cui siamo ora, che si può toccare e batterci sopra. Ecco, un giurin che si inverse. Atomi, atomi. Tanto quanti luoghi fatti di bit, come potrebbe essere il sito di una pubblica amministrazione, o di una scuola, o di luoghi di socialità, dentro cui però passano delle cose vere. Tant'è vero che una diffamazione realizzata via web, C'è vero che una pubblica amministrazione,